Siamo qui allo stand di Ruminanzia con Domenico Ferrari. Domenico Ferrari è il patron dell'Accademia Italiana del Latte, che è un'iniziativa molto interessante, è un'iniziativa culturale per trasmettere sia agli operatori della filiera lattiero-gasearia, ma anche dai normali cittadini, quella che è la cultura di lavorare il latte nelle mille forme di cui il latte viene composto, quindi andiamo dai formaggi, gli yogurt e tutto quello che ce n'è. L'Accademia del Latte è partner con Ruminanzia in una rubrica a cui noi teniamo molto, che è Domus Casei, che è un contenitore all'interno del quale noi vogliamo veicolare e dare un ulteriore contributo a questa che è la cultura della gasificazione a tutto tondo, che rappresenta un po' la nota distintiva del nostro paese. Per cui ringrazio Domenico Ferrari di essere qui da noi e di aver accettato appunto di fare questa breve intervista perché il web ci chiede dei tempi brevi. Domenico Ferrari ci racconta in poche parole qual è la mission dell'Accademia Italiana del Latte, perché questa idea così innovativa? Grazie. L'idea è molto semplice, è la continuità di quello che la mia famiglia mi ha insegnato. Io vengo da quattro generazioni di casari di parmigiano reggiano, oltre 150 anni di parmigiano prodotto. Mio papà mi ha sempre insegnato l'arte e mi ha sempre detto a metterla da una parte e io, dopo un lungo percorso, è difficile anche da raccontare qua, e insieme ai collaboratori, soprattutto Mirko Gagliani che è il direttore di Accademia e che cura tutta la didattica e i corsi di Accademia, abbiamo messo a punto questo progetto che fondamentalmente è la missione di tramandare, non far perdere, far ricordare, far assaporare la tradizione, i sapori dell'arte casearia in Italia. Bene, e un'ultima domanda Domenico, gli dobbiamo ancora un po' del suo tempo, poi la rimandiamo allo stand che abbiamo visto, è già molto pieno di gente che vuole informazioni. Come vede lei il settore lattiero caseario? Dalla vostra angolazione, tra virgolette, didattica, non di operatori diretti, quindi di industria lattiero casearia o come noi che ci occupiamo di alimentazione, come la vede il futuro dell'industria lattiero casearia del latte, o meglio, della casificazione italiana? Io ho due punti di vista molto importanti, perché sono il presidente di Accademia Italian del Latte, che è una scuola di formazione, e sono il presidente del gruppo FD Store, che è leader in Italia nel settore lattiero caseario per quello che riguarda l'allestimento dei mini caseifici, chiamiamoli così. Di conseguenza ho una visione commerciale e una visione didattica. Quella commerciale è sempre in sviluppo, c'è sempre più voglia e interesse nel iniziare a trasformare o comunque diversificare, perché il latte è ancora un'importante fonte di eredito, e soprattutto è vita per chi produce latte. Dal punto di vista accademico, per fortuna, grazie anche a noi, ai nostri investimenti e alla fatica che abbiamo fatto, sempre di più c'è attenzione alla formazione, l'imparare un'arte per imparare un mestiere. Ed è anche un po' lo slogan di Accademia Italiana del Latte, impara un'arte, impara un mestiere. Grazie Domenico Ferrari, a questo punto buona fiera e buon tutto. Viva la fiera e viva noi. Viva la fiera. Grazie a tutti.